non posso dare cn non sparcare colpi in moto, dobbiamo vincere sto game volete vincere pushando o volete vincere campionando e killando meno possibile? sono tutti i bot va bene, proviamo a pushare dopo ci incontriamo il team forte, quello tipo 4 pro player, di mongrel gli troviamo mongrel e mica gli segnala ma cosa vuoi? poi vengono bannati come jarvis vedi mongrel che piante vabbè stremmia io mi sono affresso basso io li diamo no 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 dammi nei cildini che culo michela dammi nei cildini un altro cildino avevo 4 no erano 4 avevo 4 e ne avevo 5 e ne avevo 4 e ne avevo 5 what? io ne avevo 4 e ne avevo 5 ho bisogno dei mie cildini ho solo quello per curarmi l'altro ho le granate all'altro posto ohhh mi ricorda michele copriti alza ti prendi leg no 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 perché quando lo avevo fatti ai P90 la volevo fare scriverare no perchè appena 1 vabbè ragazzi vado da solo perchè se no mi scegliate no 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 ma cosa ne frega la mutante dello stile non cambia niente tanto voglio killare mi stillate pure dio no allora io ci avrei dovuto avere 10 kill e c'erano solo 2 perchè hanno trovato gente non si trova gente in pubblica giocano tutti alla scrim se non si trova raga uniamoci perchè dopo troviamo il team forte e mi ritrovo 1 contro 4 e mi incazzo se se dopo muoio che sono sicuro che muoio per una stupidaggine se non capite il concetto di non stillare ma mutante non serve a niente non stillare mutante serve sopravvivere se io per non stillarti la kill mi prendo un 220 in faccia cosa vuol dire allora devo morire mutante se il titolo ce l'ho davanti te mi dici non stillare mi vuole tirare una pompata a 200 in faccia devo morire ma non butti a pedali quello è una settimana che sparare va bene a pedali lo stesso qualcuno se li porti e poi io muoio vengo atterrato contro 1 v3 e quelli la sono tutti delle bestie ti ammazzano preferisci che io ci sia in game e ammazzi la gente o che o che o morire e perdere il game perchè non sparo io buscio è la differa e infatti sono bravo quando mori è vero quando mori divento più bravo io perchè so gestirmi da solo mutante spara chi prende prende chi killa killa non cambia niente basta che stiamo muniti e non vai da solo come stai facendo adesso e ci aspetti che poi io non ti aiuto se ti trovo in fondo stai fightando e ti lascio morire porto io porto io vabbè portate a voi gli shieldini ce ne sono altri 4 lui no non so non posso più portare sono full gli shieldini adesso siamo ai bordi safe ma è un po' più centro della safe adesso vediamo dove si chiude michela non stare da sola per piacere e poi muore sempre qua non c'è la sola mutante visto che un rampino peschi molto più velocemente peschi in un secondo ti cago in culo non so la gente che caga in culo cosa mi sento il mio amico non so cerco ad andare in un'altra direzione perché mi segui mi fa troppo strano di solito sono i che seguo te ti seguo perché non voglio che tu muoia prendevo danni da caduta te lo giuro adesso michela si fa 6 team da sola ok ora non ci sono i bot ho capito ehmica abbiamo un problema mi sa che dobbiamo stare uniti eh già e mi sa che c'è uno dei propri ieri ma va no 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 non sono bot hanno gente sono costruito anche bene mi sa ma sono bot c'è mica il lobby che fa il game con te oh non so bot capito poi da un po' ti chiede ma non giochi mai pubblica perché giochi sempre arena o creativa ma da bella gente per forza per forza saranno tutti campeonati no michela che sta sparando michela quelli sono forti non te lo vorrei dire lascia l'impasto boom adesso vedi morta non è tanto un top ecco ora andiamo via mutanta bene lasciamo lì stare mutanta lasciamo lì in pace non ci fanno non ci fanno ve l'ho detto ve l'ho detto io vabbè andiamo non ci conviene fai tarli anche perché allora hanno un punto di vantaggio e non riesco a vedere Michela ma perché non sono le sparati che ci seguono eh non ci seguono sono quelli quelli forti sono quelli forti gli unici sopravvissuti secondo te ho capito ma non pensavo fossero loro cosa non capisco mutanta ti ho trovato si 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 tanto siamo a pari adesso tutta l'ho tutta mi ha dato la spasta tutta quella ora vai mutanta muoviti perché ci sono attesti dietro mica basta andare qua sotto ci chiediamo qua la giovane mutantina 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 è la piccolina è la piccolina di mutantina chiudiamo tutti i posti da dove posso non scendere siamo a post ah io mi so chiuso qua dentro siamo a post siamo tutti uniti raga siamo troppo divisi le materie le materie le montante c'erano tantissime mica guarda che tecnica per arena guarda aspetta che guarda guarda tecnica per arena c'è gente fermi cerca davanti dove sto guardando io mi sa quelli di prima stanno arrivando in safe io li vedo e lì fronte a noi avanti nella montagna eh mica ti vorrei dare una buona notizia e una brutta quale? la buona notizia è che li hanno ucciso qualcuno e c'è un botto di lutto la brutta è che non so dove è il tizio che l'ha ucciso ok ho capito io dov'è e ho capito dove sono i player sono da dove era Michela prima Michela lì vedi la dove eri te non c'è chi non c'è chi ne lascia stare Michela raga venite giù che ho fatto la base stavo guardando potente chiudi potente ci possono prendere da qua no non ci possono prendere ce ne avevo guarda ah io guardo qua se lo trovo adesso vedo gente quanto sono coperto gente sotto gente sotto a 72 vabbè lascia perdere vieni qua mica eh non li sto sparando infatti sto guardando cosa fanno gente sopra la montagna 120 li vedi di davanti al campfire sotto di noi lì e poi dopo al centro c'è un cicchino ma non possono spaccarsi andare avanti gente sopra gente sopra la montagna gente alla nostra a destra c'è 57 eh ti conviene seguirmi sto per fare una cosa ma tanta gente con la barca qua sotto di noi si la cosa stai facendo stai attento stiamo qua tanto questa è una partita da siete sopra dietro di te c'è chi è da 105 c'è chi è da 105 siete sopra la montagna senti dietro di noi dietro di noi vabbè siamo in ciai fottetene no è mazza avete mazza non ho nulla no a pochi stai attento michela michela stai attenta ho montato i materiali è dietro di te non vedete non vedete mi dietro fattento un box se no allora ho dei problemi ma perché queste partite vanno da boxare perché perché sono io in partita mica la fine li trovi pro player boxati capito perché sono nelle mie lobby tutto così mica ora è il dopo tunnello eh si se avessi tanti mazzi gente sopra di noi proprio sopra di noi dietro di noi 140 su destra con aranciarazzi perché c'erano con noi ok stanno sparando no no c'erano con loro fermi fermi non fatemi notare ok si stanno sparando allora si non facciamoci notare non facciamoci notare ma tanto dopo per salire se nel caso la safe da loro usiamo i i ground no ghiro pin safe siete fuori mi so no no dentro dentro ok aspetta aspetta che ci spostiamo allora ok minchia la partita pre arena cosa vai ora vai ora sopra sopra copri sopra poi copri dal sinistra io faccio sopra copri te michela e mi faccio mazza ok no ho finito max ho finito max finito ammazzato ucciso uno ucciso un altro ucciso un altro ok ho ucciso il team aiuto aiuto da me da me da me è morta michela com'è morta te zerrata mi devo fremmati istanto mica le ho massacrati mica le ho massacrati vieni michela vieni michela stai coperta vieni vieni qua sotto mutante fai vai vai te rian te coprimi coprimi devi coprirmi non ti posso coprire e sto riazzando michela siamo in tre vai michela vai michela 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 maccala maccala c'è chi l'ha 200 ma c'abbiamo gente anche dietro michela no no sono quelli davanti mica gli sti cinendo tutti ok e c'è l'albero in mezzo aspetta dai io c'ho il lutto in mezzo ok sono lì davanti attento spaccala vai faccala ok stanno sparando lì 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 cazzo con ciuchino con ciuchino attento attento ok oh merda via 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 avanziamo devono arrivare in safe da noi mutante lanciarazzi lanciarazzi bella mi alzo vai in ferro beto 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 in acqua in acqua beta ho scioltato quasi ho sotto da me lanciarazzi compuesto una ma l'imica telli è l'ultimo 3 facciую faccio io se riesco faccio io se riesco ma mia упante come abbiamo vinto un game bello abbiamo vinto un game bello ammetto il carico su youtube non abbiamo forte delle sì ma da caricare mica perché è stato un game da box aria e vista mica stato tipo arena mica 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 su una bestia col cecchino cecchino tutto michela di lì cosa ha fatto io nel box mi stavano barcato in due con lanciare con lanciarazzi ma domica questo è stato un game bello ma impossibile quasi da vincere c'era bene